DIVISO 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 Vai, 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 vai! A terra! Ciao. Tutto bene? Sì, tutto bene. Dovresti uscire un po', conoscere gente nuova, divertirti. Finalmente! Pensavo che non saresti venuto. Dai, dai, dai! E Anna, ti piace? Non abbiamo più 15 anni. E occhio non vede e... Da dove sei uscito tu? Sei sola da un bel po'. Sono sola da otto anni, da quando è andato in carcere. Ha solamente me. Ti ho chiesto se mi ami. Sì, certo che ti amo, Curro. E perché piangi allora? Lui ha detto che non conosceva i rapinatori che l'avevano pagato per stare fuori in macchina ad aspettarli. Perché l'ha fatto? Non gliel'hai chiesto? Che sta succedendo? Perché hai tu il telefono di Anna? Dimmi che sono. Non so niente. Sì, invece. Aiutami a trovarli. Fino a dove un uomo è disposto a spingersi per fare giustizia. Ho fatto quello che dovevo fare. Io no. La vendetta di un uomo tranquillo. Dal 30 marzo al cinema.